Fines Online è il servizio che ti permette di trasmettere le pratiche agli enti locali valdostani per via telematica. Sapevi che una volta fatto l'accesso alla tua area riservata di Fines puoi consultare le pratiche che hai trasmesso e quelle che stai compilando? Ecco come! Vai su celva.it oppure sul sito del tuo comune. Nella home page del sito trovi un link per accedere ai servizi online e alla modulistica. Accedi alle mie pratiche dal menu laterale e usa la tua identità digitale tra speed o carta di identità elettronica. Ora puoi scegliere se visualizzare le pratiche in compilazione o quelle già completate. Fai attenzione! Le tue pratiche resteranno salvate solo per un certo periodo. Controlla in questa pagina le scadenze stabilite. Cerca tra le pratiche in compilazione. Puoi visualizzare l'elenco delle pratiche che hai lasciato in sospeso, sceglierne una e terminare la trasmissione. Torna alle mie pratiche e questa volta scegli l'opzione Completate. Puoi fare la ricerca filtrando i risultati in base al codice della pratica, oppure alla data di trasmissione, oppure all'oggetto. Se invece vuoi vedere tutte le pratiche che hai trasmesso, clicca direttamente su Cerca. Ricordati che puoi anche riprendere la pratica che hai già trasmesso e presentare un'integrazione della documentazione richiesta dal lente, cliccando sull'icona della matita. Hai ancora dubbi? Puoi contattare i nostri uffici scrivendo a consulenza.chiocciolacelva.it Prenditi ancora un minuto ed esplora la playlist dedicata a FINES. Grazie a tutti.